Un blackout, un vuoto di memoria, ricorda solo il tremolio delle sue mani e del sangue. Questo è il racconto fatto di fronte al GIP Pier Giorgio Ponticelli nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto da Clara Vannini, la cinquattotenne che lo scorso lunedì a Terranova Bracciolini ha ucciso il marito. Il GIP ha convalidato l'arresto e la misura cautelare della custodia in carcere. La difesa della donna invece aveva richiesto una misura cautelare alternativa, ovvero il trasferimento in una struttura sanitaria compatibile con lo stato di salute della cinquantotenne. L'istanza è stata rigettata. La donna è arrivata al tribunale di Arezzo con la polizia penitenziaria dal carcere fiorentino di Sollicciano. Assistita dal suo avvocato, Antonino Giunta ha scelto di rispondere alle domande del GIP. Ha raccontato di aver accudito il marito dopo l'ictus che lo aveva colpito alcuni anni fa e ha ricordato solamente un piccolo episodio del giorno del delitto, ossia che l'uomo voleva uscire quel pomeriggio per andare alla festa del perdono che si teneva a terra nuova. Lei invece sarebbe voluta rimanere in casa. Riguardo invece all'omicidio, la donna ha affermato di non ricordare nulla se non le sue mani tremanti, il sangue a terra e di aver ingerito pillole, tentando così il suicidio, poi il vuoto fino al risveglio in ospedale. Clara Vannini avrebbe poi parlato di un suo disagio crescente e di uno stato depressivo acuito dalle condizioni di salute del marito. La difesa della donna ha annunciato che richiederà una perizia psichiatrica. L'accusa formulata nei confronti di Clara Vannini è quella dell'omicidio volontario ed impeto aggravato dal fatto che la vittima è il coniuge.